A rischio il polo universitario di Taranto, o almeno la sopravvivenza di alcuni dei suoi corsi di laurea, tra cui quello prestigioso di Ingegneria a Paolo Sesso, a preoccupare il decreto con cui il ministro profumò detta i nuovi criteri per l'accreditamento dei corsi di laurea, fissando che i numeri che nell'arco di un triennio dovranno essere garantiti in termini di organico dei docenti incardinati in ogni singolo corso di laurea, nonché le caratteristiche strutturali delle sedi. Un decreto che si abbatte su università telematiche e sedi decentrate già in crisi e che rischia di cancellare con un colpo di spugna a facoltà e dipartimenti, per cui a Taranto se i corsi di laurea come giurisprudenza ed economia, dove si registra anche un più 6% rispetto alle immatricolazioni dello scorso anno, potranno tenere è solo perché esiste un dipartimento ionico giuridico-economico, peraltro con il suo responsabile per statuto presente nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, che non ha la seconda facoltà esiguita a Taranto nel 1990 e cancellata quest'anno accademico, articola la propria offerta formativa attraverso un centro interdipartimentale diviso tra Bari e Taranto. Insomma, il rischio concreto dopo la già grave carenza di personale blocco del turnover è quello anche di una cancellazione di pezzi importanti di offerta formativa su Taranto, in un quartiere come Paolo VI. Preoccupatissimi gli universitari delle associazioni studentesche che hanno in programma un incontro con il lettore Costantino. Dipenderà poi anche dall'esito di questo incontro il futuro dell'università. Intanto è già partito la mobilitazione e il presidio nelle sedi Tarantine, a cominciare da Palazzo Amati.